Sono le 3 del mattino, via dell'artigianato, zona industriale di Lucrezia. L'autista della ditta Metal Fly sale a bordo del suo camion da 70 quintali, carico di componenti per cucine da consegnare ad un mobilificio della Nord Italia. Sembra una partenza come tutte le altre, ma dopo pochissimi metri avviene l'inspiegabile. Per cause, ancora in via di accertamento, all'altezza di un'altra ditta vicina, l'Ebanista, che fa componenti per la nautica, il camion centra in pieno le colonnine di gas metano e quelle dell'Enel, tranciandole di netto e lasciando al buio tutte le aziende della zona. Fuoriuscita di gas, ad elevata pressione, cavi elettrici che emettono pericolose scintille e perdita di nafta dal camion. Una situazione decisamente pericolosa. Scattano anche gli allarmi delle aziende ed è questo che fa scattare i soccorsi. I titolari, buttati giù dal letto in piena notte dalla vigilanza, a loro arrivo si accorgono subito dell'accaduto. Sono le 3.15 e arriva la squadra dei vigili del fuoco di Fano. Sono arrivato qua, c'era un camion contro tutti i contatori, più che parte del metano, perché c'era una grande puzza di metano, c'era una grande pressione, sotto i vigili del fuoco. Dopo abbiamo visto che il danno è stato un bel danno, una cosa un po' pesante. Ma come può essere successo una cosa del genere? Come ho fatto? Non neanche lui, infatti era preoccupato, era un po' vilito, sinceramente era vilito. Dopo che i pompieri hanno messo in sicurezza la zona alle 5 del mattino, arrivano anche le squadre di Marche Multiservizi ed Enel che iniziano un lungo lavoro. I danni sono ingenti ed i macchinari delle aziende fermi per mancanza di corrente. Solo i muletti lavorano per quel che possono. Un camion so che è partito da qui da 100 metri, quindi ha preso, ha inforcato, li ha portati via tutte, gas e tutte le rete elettriche, di tutti i capannoni. Quindi siete stati svegliati? Io sono stato svegliato dalla vigilanza che mi ha chiamato che era partita la rete elettrica, però non pensavo a una cosa del genere.